Allora mister, arriva una partita importante, credo che da lei sia particolarmente anche sentita, come l'ha preparata, che settimana è stata in sostanza? Una partita importante, come lo sono tutte le partite che andiamo a affrontare questo campionato, è chiaro che andiamo a giocare in uno stadio importante contro una squadra molto forte, però comunque vorrei che la mia squadra andasse in campo volenterosi di mettere in difficoltà l'avversario, dove ripeto abbiamo una delle squadre più forti del campionato e allenata anche da uno dei migliori allenatori d'Europa, quindi da parte nostra c'è comunque la convinzione e la volontà di cercare di andare a fare risultato, ma questo passa molto sia dalla squadra avversaria, ripeto una squadra molto forte, ma soprattutto dalla nostra convinzione e dalla nostra voglia comunque di andare a fare risultato. Lei parla sempre di equilibrio, sia dopo una sconfitta che dopo una vittoria, forse conoscendolo un po' è stato più difficile frenare un attimino gli entusiasmi dopo un 5-1 e dopo una partita perfetta, direi io. Cosa ha detto la squadra? Ma c'è l'avversario che si va a affrontare successivamente, subito dopo la partita, sapevamo che comunque dovevamo lavorare in settimana per andare a giocare a San Siro contro l'Inter, quindi la soddisfazione di aver vinto una partita è importante in quella maniera in casa, ma subito con il pensiero alla partita successiva. Poi tutti quanti voi sapete quello che è successo durante la settimana, quindi ripeto, nonostante le difficoltà numeriche, le emergenze in alcune situazioni, in alcuni ruoli, quello che dobbiamo fare è cercare di andare a fare una partita, ripeto, con equilibrio, con intelligenza, con la massima volontà di cercare di fare risultato, indipendentemente dalle assenze, indipendentemente da chi andrà in campo, che sono sicuro che comunque gli undici che andranno in campo avranno la voglia di misurarsi contro una squadra forte. Settimana difficile anche in questo senso, perché già il Parma ha perso Inglese, ha perso poi Cornelius, si è affermato già Bruno Alves, c'è stato un mix di infortuni traumatici, quelli di Inglese e Laurini, muscolari, quelli di Alvese e Cornelius, in più Grassi si è operato, come state valutando un po' tutto quello che è successo, insomma, in termini anche di infortuni? Sì, Alberto, considerarlo fra gli infortunati, commetteremo un errore, perché Alberto, da sin da quando è arrivato, a parte una partita che ha fatto, forzando io anche, poiché aveva fatto un periodo di allenamento con continuità, è un problema che ci portiamo avanti dall'inizio del ritiro. Per quanto riguarda le altre situazioni, è chiaro che abbiamo in mente l'infortunio di Roberto Inglese e di Laurini, dove su uno scontro di gioco, per sfortuna, e penso anche, riguardando la dinamica di Roberto, per fortuna non è più grave di quello che pensavamo, perché vedere la dinamica veramente ci si spaventa, in quanto il giocatore avversario involontariamente gli è caduto con tutto il corpo sul piede. È chiaro che poi Cornelius e Bruno Alves hanno avuto un problema sui flessori, è chiaro che bisogna poi analizzare ogni singola situazione, dove Bruno era un periodo che portava avanti un problema sul tallone, quindi molto probabilmente è dovuto al fatto che caricava male. Come Cornelius, dovuto anche al fatto che magari dopo sei mesi di inattività, un periodo dove stava giocando con continuità anche più di quello che magari poteva, comunque aveva subito una botta in nazionale, che solo dopo l'infortunio ci siamo accorti, poiché i dottori gli hanno tolto un ematoma, un versamento di sangue, lì vicino a dove si è fatto male, quindi su situazioni diverse. È chiaro che quello che dobbiamo far noi ragionare su una condizione fisica generale della squadra, il fatto che magari ci possono essere infortuni e quindi ci possa essere una situazione di emergenza, ma questo lo si sapeva già inizialmente che per quanto riguarda il numero della Rosa era un numero corto e lì dove poi ci sono degli infortuni purtroppo si può andare in difficoltà sotto l'aspetto numerico dei giocatori a disposizione. Comunque 11 giocatori in campo, domani ci saranno e tre cambi, per fortuna se non succede qualcosa sul Puma riusciamo a fare anche quello. Faccio l'ultima domanda da parte mia, l'Inter è una squadra forte, una squadra fisica, una squadra che gioca anche in ampiezza, gioca a memoria, trova sempre il quinto da una parte dall'altra, forse nelle ultime due volte è impostato con questo doppio regista, Brozovic, De Vrij, quali sono le contromosse da prendere per un Parma che, ripeto, viene da un risultato positivo, però deve far fronte anche a delle emergenze che sono capitate in settimana? Hai descritto bene le caratteristiche della squadra persa, è una squadra che è molto brava a sfruttare le ampiezze, ma è soprattutto molto brava anche a cercare le verticalizzazioni sulle due punte, dove giocano molto vicine e collaborano tra di loro, quindi non è una partita semplice, tatticamente cercheremo di limitare i loro pregi, oggi è chiaro che bisogna considerare le qualità dei giocatori che hanno a disposizione, che sono qualità molto importanti e soprattutto bisogna tener conto che sull'organizzazione abbiamo di fronte uno dei migliori allenatori al mondo, quindi sappiamo delle difficoltà, le contromisure, abbiamo cercato di lavorare durante la settimana, mi auguro che domani riusciamo a riportarle in campo. Ciao, buongiorno. Fuori Cornelius e inglese possiamo aspettarci qualche cambiamento tattico, un falso Nueve oppure, che ne so, Cluseschi prima punta, cosa hai pensato, cosa hai provato? È chiaro che avendo solo cinque difensori potete immaginare quale può essere l'inizio dello schieramento della difesa, in base a quello poi tre giocatori davanti ci giocheranno, sapremo domani con quale caratteristiche, però sì, non avendo un centravanti di punta è pensabile sia una situazione, ovvero una situazione del tre quarti, oppure con la punta centrale con caratteristiche diverse, però questo poi lo diremo domani. È chiaro che lì dove Cluseschi comunque è un ruolo che ha sempre fatto in primavera, anche in nazionale è sottopunta, penso che vada a sfruttare le sue caratteristiche, poi noi quest'anno, io l'ho adottato in un sistema di gioco che mi dà più equilibrio, però credo che quel ruolo possa far benissimo, è chiaro che poi bisogna ragionare sugli altri giocatori che hanno caratteristiche diverse, ovvero Gervinio, oppure Sprocati e Caramò, e devo dire che entrambi i ragazzi, sia Caramò che Sprocati, per quello che stanno facendo a vedere in queste ultime settimane meriterebbero di giocare. Esatto, te lo stavo per chiedere, l'anno scorso fu il grande giorno di Di Marco, tra l'altro l'extra, domani potrebbe essere quello di Caramò? Potrebbe, potrebbe, ripeto, perché comunque in queste settimane si sta allenando bene, credo anche che sia una partita dove sotto l'aspetto emotivo, può, nel momento in cui dovessi scegliere di farlo giocare dall'inizio, comunque di fare qualcosa di importante, poiché era un giocatore dell'Inter, quindi è diventato un giocatore nostro, magari anche sotto l'aspetto mentale, conta molto, soprattutto sotto l'aspetto fisico, quello che conta più, credo, in una partita di calcio è l'aspetto mentale. Qui bisogna essere bravi un po' tutti domani, essere dentro la partita per 95 minuti, a cercare di mantenere la partita in equilibrio, perché è una squadra molto forte, difficilmente concede, lo dimostrano i numeri, e quindi dobbiamo essere bravi a fare entrambe le fasi, ripeto, indipendentemente dal fatto che giochi Caramò o Sprocati o qualcun altro. Ultima da parte mia, senza guardare troppo avanti, però martedì arriva il Verona al Tardini. Preferiresti due punti in due partite o tre in due? No, quello che cerchiamo di fare noi è di affrontare ogni singolo impegno con l'obiettivo, con la voglia di ottimizzare ogni singola partita. In questo momento, ti dico la verità, e non posso neanche stare a ragionare su turn over, tra virgolette, perché sapete cosa penso io, per poi pensare alla partita di martedì, che magari può essere più a nostra portata in questo momento. Oggi partiamo che siamo in 16-17, quindi ho poca disposizione per poter far calcoli. Quindi cercherò di mettere domani la miglior formazione possibile per cercare di fare risultato nella partita di domani, perché nel calcio non c'è niente di impossibile. Spesso e volentieri si è pensato magari a impegni più semplici o meno semplici e si è dimostrato tutto il contrario. E poi penseremo successivamente alla partita di martedì. Buon pomeriggio, Ministro. Buongiorno. Considerando le tante assenze in attacco, ha pensato, magari anche prendendo esempio da Conte, che ha fatto esordire il giovane Esposito qualche giorno fa, di poter portare qualche ragazzo della primavera, come ha fatto con Camara la settimana scorsa, o Adorante stesso, che è tornato ad allenarsi con la squadra da qualche settimana, e poi soprattutto come sta anche Adorante, che è stato uno dei colpi di quest'estate, che viene da un infortunio. Adorante va a giocare con la primavera perché non è ancora in condizione per poter giocare. Camara questa notte ha avuto un problema e ha dovuto andare a pronto soccorso. Poi io credo che nelle scelte non si facciano in base al fatto di settore giovanile o meno. Credo che Esposito, poiché mi ha fatto un nome importante, in Champions è entrato mezz'ora a posto di Lukaku. Quindi penso che nella valutazione è un giocatore pronto, per quanto riguarda il loro allenatore, già per giocare in Champions e in campionato. Lì dove c'è un giocatore che mi dimostra di poter far parte di questo gruppo, è chiaro che lo si tiene in considerazione. Ma ad oggi, ragionando sulla nostra primavera, colui che magari in prospettiva, ripeto, anche se stanotte ha avuto un problema, è Camara, detto questo, Adorante, va a giocare con la primavera perché non ha ancora fatto un minuto e quindi ha bisogno di una certa condizione fisica. È chiaro che le valutazioni lo si fanno anche a delle condizioni fisiche. è esposto e entrato e ha fatto la differenza e ha cambiato l'esito della partita.